La pulizia non è la base della salute? Sempre di no, perché 47 di noi ci siamo in mezzo alla strada, famiglie che avevano solo quel stipendio, come fanno a tirare avanti? Durante il Covid siamo stati chiamati eroi e oggi siamo i pesi della società, del sistema sanitario. Da eroi appeso della società il passo è stato davvero breve, è la paradossale situazione che sta accadendo a circa una cinquantina di lavoratori della Sanità Service dell'Asla BT, che questa mattina sono scesi in piazza davanti all'ospedale Bonomo di Andria per chiedere con forza di vedere prolungato il loro contratto di lavoro. Chiamati ancora una volta per l'emergenza, coprire anche le parti Covid e dopo due anni messi alla porta, definiti spreco, tutto qua. Questo è quello che mi viene da dire. Noi ci occupiamo prevalentemente della sanificazione, della pulizia di tutte le parti, degli ambienti comuni, è un servizio basilare per l'attività infermieristica e quindi ospedaliera e trovo ingiusto che anche i pazienti in qualche modo vengano coinvolti in questa situazione. Personale e ausiliario che è rimasto a casa ormai dal primo aprile che potrebbe creare anche gravi problemi per l'ordinaria attività nelle strutture ospedaliere, visto che la Sanità Service sconta già una carenza atavica in questo tipo di servizi. Al fianco dei lavoratori questa mattina tutti i sindacati confederali che già nei giorni scorsi hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale. Il blocco delle assunzioni, come ci spiegano, arriva direttamente dalla Regione. La Regione Puglia ha imposto il blocco delle assunzioni. In Sanità Service, dal primo aprile, 47 lavoratori e lavoratrici somministrati sono rimasti a casa, a cui si aggiungono altri 30 lavoratori e lavoratrici che non sono stati mai sostituiti. Per noi questo potrebbe mettere a rischio la salute e la sicurezza negli ambienti di vita delle strutture aziendali dell'ASLBAT. Quindi chiediamo la proroga dei contratti e che non si intervenga per ridurre i tagli sul personale e sui servizi sanitari. I lavoratori di Sanità Service in questo momento sono di numero inferiore rispetto a quelli che possono garantire comunque le pulizie, l'assistenza ai pazienti. Per cui la Regione deve fare un passo indietro, deve sbloccare le assunzioni e Sanità Service entro il primo maggio deve comunque assumere i lavoratori che ne hanno diritto, che in questo momento sono a casa a soffrire senza stipendio e le proprie famiglie in questo momento sono in sofferenza. Un problema di cui si farà carico anche il Partito Democratico Cittadino che questa mattina ha solidarizzato con i lavori con una rappresentanza durante la protesta assicurando il massimo impegno per stimolare i rappresentanti regionali. Di certo c'è che le problematiche sono non solo di tipo organizzativo ma anche sociale. Uno che impatta su chi ha perso il lavoro è quindi una cinquantina di famiglie che dal mese prossimo non potranno contare sullo stipendio ma si ribalta comunque sulla società perché ogni volta che tagliamo sul personale diamo meno ai cittadini, il personale non sta lì per sé, sta là per offrire servizi ai cittadini.